Ed è ancora lui, sesta vittoria stagionale per Stefano Torgese della Kikos Abruzzo davanti a Giovanni Lattanzi e Luca Rubechini. Venivo già da Tollo da tre giorni fa dove avevo vinto, quindi un po' le energie erano a scendere. Però abbiamo provato subito dopo la deviazione con tutta la squadra a fare un bel ritmo, mandando a Desi una scoperta e poi una volta ripreso siamo andati via in tre della stessa squadra. Io, Cecca Rossi e Aurelio Di Pietro insieme a Lattanzi, Rubechini e un altro signore che insomma andavamo molto forti. Infatti dietro non ci hanno ripreso più fino all'arrivo e la salita finale, devo ringraziare i miei compagni che mi hanno tenuto fino ai 500 metri, ho dovuto semplicemente fare la volata. Che bella corsa questa, che bel finale. Sì, sì, è una bellissima corsa, un finale così ci vuole, tante gare arrivano, si perdono proprio nei finali, casomai arrivando in discesa dopo una curva brutta, casomai. Invece questa è perfetta, un paesaggio stupendo, oggi il tempo è stato con noi, quindi non posso innanzitutto ringraziare la squadra, con gli sponsor Europa Vini, patron Marchesani e presidente Persanti. Questa vittoria è per loro, niente. Ed è ancora lui, sesta vittoria stagionale per Stefano Torghese della Chico Sabruzzo davanti a Giovanni Lattanzi e Luca Rubechini.